Un evento in collaborazione con Pinot de Pinot e Gancia Versus Profumo Una grande serata di calcio su Italia 1 Per il ritorno del terzo turno di Coppa Italia Juventus-Atalanta Dopo i 90 minuti di Bergamo ricchi di emozioni e gioco duro Bianconeri e Nerazzurri si giocano all'accesso ai quarti di finale Nella sfida in programma al Delle Alpi di Torino Martedì alle 20.30 per il ritorno del terzo turno di Coppa Italia Juventus-Atalanta Chi ama il calcio sceglie Italia 1 Mamma, cosa vuol dire infeltrito? Infeltrito significa che un bel maglione di lana Può perdere morbidezza, restringersi e diventare brutto E il mio allora? Il tuo lo lavo io E con Soflan? Che è antinfeltrente? Fin dal primo lavaggio Nuovo Soflan Antinfeltrente Ti aiuta a rispettare la morbidezza naturale della lama Nuovo Soflan Antinfeltrente Una lama, sempre in forma Puoi contestare le spese di condominio? L'assicurazione non ti paga i danni? L'estratto conto della banca è un rebus? Finalmente è in edicola il mio avvocato La più completa guida pratica giuridica Con la consulenza di commercialista, fiscalista, notario Ti spiega le leggi con l'aiuto dei codici Ti presenta mille casi reali e le relative risposte Ti aiuta a compilare lettere legali, fiscali e amministrative Il mio avvocato Con i primi due fascicoli In regalo il raccoglitore a schede Peruzzo Editore Pensate di poter vivere con la pensione minima? No, vero? Allora fate come noi Abbiamo sottoscritto anni d'oro rendita anni fa E oggi non siamo di peso a nessuno Rivolgiti ai consulenti globali di Programma Italia La voglio che duri tanto tempo Con lo blocchi comodo Devo poter dosare meglio il detersivo E che mi dia un lavaggio delicato ed efficace Candy sa come si fa a darti tutto questo Nuove Candy Acquaviva Belle e intelligenti Grazie Candy